Apex Legends su GeForce Now. Sarebbe un videogiomecchi in streaming. Vediamo le impostazioni che ha utilizzato, bub predefinito, dove video, suggerimenti, cioè queste sono le impostazioni che ha fatto di default. Proviamo a fare una classificata e adesso come terrò il telefono non lo so, però vediamo innanzitutto. Logicamente sono entrato con il mio account, stanzi tempi di attesa non sono. Eppure avrei dovuto selezionare il conteggio dei fotogrammi, vabbè che saranno dei fotogrammi della loro scheda video, quindi teoricamente dovrebbe essere una sessantina. L'input lag è quello che mi piacerebbe verificare. Mi fido solo di chi devo fidarmi. Tutto qui. Ogni scelta cambia tutto. Ecco il campione. Fate sparsio, sto arrivando. Sono davvero curioso. Beh considerando che già nativo mi risultava un ping di... Basta perdere tempo, ci lanciamo. Eeeh, fammi capire, ci stiamo lanciando in picchiata, sto seguendo. Ho avvistato un nemico là giù. Eppure non c'è, non c'è un gran ritardo di... È che ogni tanto va a scatti, però come velocità di movimento penso forse un po' meglio della scheda video integrata. Gioco, modalità, dimensioni, prestazioni, sì. Vabbè logicamente spuntano più di 100 fotogrammi, 71 di input, di latenza. Io non ho niente, vabbè adesso posso... Comunque. Stacco il video perché cerco di prendere qualcosa. troppo Grazie a tutti